Uccidi il maiale. Ciao ragazzi, io sono Red. Oddio, non siamo al Monopoly Softair. Perché non siamo al Monopoly Softair? Beh, perché chi mi segue su Instagram, cosa che dovreste fare tutti, maledetti, sa che ho agghindato il mio studio dove lavoro con questi bellissimi poster, così ho un fondale dove riprendere che non sia un muro bianco merdoso stifoso. Perché sto facendo questo video? Per annunciarvi il contest. Visto che tra più o meno 4 giorni dovremmo riuscire, teoricamente, ad arrivare alla soglia dei 10.000 iscritti, vi chiedo un ultimo sforzo e un ultimo aiuto. Infatti vorrei lanciare questo contest sulla base delle seguenti cose. Intanto cosa prevede questo contest? Beh, molto semplicemente sceglieremo tre persone che riceveranno in omaggio le patch del negozio, ovvero questa patch qui e l'altra con la M. Vi metto l'immagine qua di fianco così non mi devo alzare per andarla a prendere. Ve le spediremo direttamente a casa noi, quindi top per voi. Per partecipare al contest dovrete fare sostanzialmente le seguenti cose. Seguite passo per passo perché dovete farle tutte se volete avere la possibilità di vincere appunto le patch monopoli. Primo di tutto, primo tra tutti, primo di tutti, vabbè, avete capito. Dovete essere iscritti ovviamente al canale, va da sé, e aver commentato e messo like a questo video. La seconda cosa è che all'interno del commento che c'è qua sotto dovrete mettere il vostro nome Instagram. Perché dovrete mettere il vostro nome Instagram? Beh, perché su Instagram dovrete taggare la mia page, quindi il Red Fox Softair, e Monopoli, ovviamente, Softair, in un post che pubblicherete appunto sulla vostra pagina Instagram. Questo ovviamente è un modo per far sì che più gente ci conosca, in modo tale da arrivare prima a questi cacchio di 10.000, che come avete visto stiamo facendo veramente fatica ad arrivare, in quanto negli ultimi giorni abbiamo riscontrato un calo degli iscritti, non capiamo perché, visto che abbiamo fatto tipo 3.500 iscritti in un mese e adesso, boh, non lo so. Una volta fatti questi tre passaggi, noi sceglieremo i tre vincitori, saranno sostanzialmente quelli che l'hanno fatto prima degli altri, e successivamente, poi dopo, vi contatteremo appunto su Instagram e vi diremo, grande, se è il fortunato vincitore del contest, e vi manderemo a casa le due patch. Tra l'altro vi dico che abbiamo appena finito di girare il Monopoli Ask, quindi abbiamo già risposto a tutte le vostre domande, e uscirà mercoledì, quindi è pronto lì per uscire. E mercoledì appunto annuncerò i vincitori di questo contest, quindi vi conviene partecipare e farlo il prima possibile appena vedete il video. Niente, qui da Red è effettivamente tutto, noi ci vediamo settimana prossima con il primo speciale, quindi l'Ask, Monopoli Ask, 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 e stai angri! Perfetto, adesso riceverò una montagna d'odio.